Elezioni regionali in Abruzzo, si vota il 10 marzo, perché votare Pierpaolo Pietrucci? Beh dunque intanto 10 marzo bisogna votare Luciano D'Amico per liberare l'Abruzzo dalle catene della destra romana e del romano Marsiglio. Poi votare Pietrucci perché in questi anni ha dato ampia dimostrazione di sapersi battere per la difesa delle aree interne, per chi ha perso il posto di lavoro, per il trasporto pubblico, per il contrasto allo spopolamento e soprattutto per la sanità pubblica sfasciata completamente dal governo Marsiglio. Diversità, equità, inclusione sono questi i pilastri su cui fondare il solco della nuova ricostruzione e del rilancio sociale, economico, produttivo della nostra regione. Ci sono le condizioni, grazie anche alla vittoria del centrosinistra in Sardegna, per vincere le elezioni regionali. Con cuore e coraggio noi potremo davvero il 10 marzo scrivere una storia nuova per la nostra regione.